L'atleta capitano Formicone Gianluca, gli atleti Di Nicola Giubiano, Manuelli Gianluca, Tarquini Matteo, Di Nicola Marco, il capitano Fanaghi Onero, gli atleti Roppi Luca, Giulietti Simone, Parfetti Michele, Santucci Luca, parlaci di questa ingiustizia Luca, neanche fa chi non ha direttamente tribuna ma va bene così, va bene così. 0-4, 4 pari ai pallini. Prima! Prima! Questa davanti! Grazie. 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 Grazie.